Un taglio del nostro partecipatissimo è quello di ieri al Centro Salute Mentale di Gubbio, dove è stato inaugurato il centro di ascolto intitolato a Silvia Calzuola. Moltissimi gli agubini che hanno salutato con un brindisi l'inaugurazione ufficiale del servizio già sperimentato dalla fine del 2013. A tracciare un primo bilancio del CSM, parlando anche del contributo di Silvia Calzuola nell'approccio integrato, utenti familiari e esperti per il disagio mentale, è stata la direttrice del Dipartimento, Maria Patrizia Lorenzetti, che ha ricordato come nel 2014 siano stati registrati 298 accessi a questo servizio. La gestione del servizio è affidata ai soci volontari dell'associazione Crisalide, nell'ambito di una convenzione siglata con l'USL. Questo è un punto a cui accedono le persone che ritengono di dover avere delle informazioni o hanno delle domande da porre ad altre persone che hanno avuto o hanno problemi analoghi ai loro. E quindi in questo senso gli utenti e i familiari esperti che portano avanti il centro, i volontari, hanno accolto un discreto numero di persone nel corso del 2014. 298 sono stati gli accessi e soprattutto non sono stati accessi che si sono conclusi semplicemente con il venire qui e avere una risposta, ma anche poi essere stati supportati e indirizzati verso altre risorse, altre risposte che magari potevano nascere nel corso dell'incontro. Al taglio del nastro, oltre al vescovo Ceccobelli, c'erano i sindaci di Gubbio e Gualdo. Dopo l'inaugurazione è seguito l'incontro dal tema Nuovi percorsi in salute mentale alla Biblioteca Spirelliana, seguito da un evento di poesia e musica. Alle 20.30 poi la presentazione della proposta di legge 2233-181, illustrata alla cittadinanza dall'onorevole Ezio Casati, primo firmatario della proposta e dal dottor Renzo De Stefani, referente nazionale di Parole Ritrovate, il movimento del fare assieme ben noto a Gubbio. Il fine di questa proposta di legge è quello di valorizzare la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute mentale. Grazie. Grazie. Grazie.